Che ha girato un po' intorno all'area del Cittadella, l'impressione è che Jonathan abbia avuto anche parecchio spazio per muoversi e poter colpire. Sì, più che altro si è trovato in una posizione non sua, perché colpire di testa per un esterno basso, insomma, non è proprio il massimo, considerando tutto. Però bravo perché è stato premiato il suo movimento, forse proprio quello che chiede un attimino Mazzari, cercare di portare sorprese nelle difese avversarie.